Laura Giombini e Marta Menegatti, la nuova coppia azzurra per il torneo di bicefemminile. Laura è arrivata a Rio da poche ore. Sì, sono arrivata da pochissimo qui. La notizia appunto di questa nuova esperienza bellissima per me ce l'ho avuto poche ore fa. Purtroppo mi dispiace tantissimo per quello che è accaduto a Vicky. Non solo perché la ritengo una delle giocatrici più forti del World Tour, ma anche perché è una mia grandissima amica. Cercherò di dare il massimo perché comunque questo è il sogno di ogni atleta. Cercherò appunto di dare tutto. Ecco, con Marta parliamo subito di bicefemminile. Che credo che adesso sia l'ora, dopo 48 ore di troppe parole, di parlare del torneo che si sta per cominciare. Che cosa può succedere adesso in questo torneo per te, logicamente insieme a Laura? Beh, logicamente c'è inevitabile dire che sono molto dispiaciuta, molto amareggiata per ciò che è successo a Vicky. Ovviamente mi dispiace moltissimo che lei non sia qui con me, ma allo stesso tempo sono felice di avere Laura al mio fianco, perché la stiamo come giocatrice ed è una grandissima amica. Quindi penso che il nostro punto di forza in questa Olimpiade sarà la nostra unione e il fatto che ci conosciamo molto bene. Abbiamo già giocato insieme un europeo under 23 molto tempo fa e abbiamo degli ottimi ricordi perché comunque siamo arrivate seconde. Perciò, niente, ora metteremo in campo tutta la grinta che abbiamo, lotteremo su ogni palla e niente, vediamo che succederà. Ancora due parole con Laura, di quello europeo che ti ricorda? Ma anche quello europeo è stata un'emozione fortissima per me perché giocare insieme a Marta è una delle giocatrici anche lei più forti, e quindi gliel'ho sempre detto non perché adesso mi trovo qui con lei. Quindi sono cresciuta molto in quel giovanile perché venivo anche da un infortunio al dito. Quindi è stato un ricominciare, è stata una sorpresa enorme combattere al suo fianco e arrivare fino alla fine. Questo ovviamente è un altro gruppo di torneo, però ce la metteremo tutta. E vicino a me ho una campionessa, quindi cercherò di stare dietro, di stargli dietro. Marta, una curiosità che hanno tutti. Come giocherete? Ma a dir la verità lo dobbiamo ancora scoprire, anche noi in strada facendo, comunque in questi pochi giorni che ci rimangono di avvicinamento al torneo. Però credo che sarà una grande sorpresa per tutti quanti, quindi ribadisco. Metteremo il nostro meglio in campo, unite, e giocheremo ovviamente per rappresentare l'Italia, l'aeronautica e giocheremo anche per Vicky. E mandiamo un grosso bacio a lei. Grazie.